Buongiorno, ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Allora, oggi, domani e dopodomani voglio condividere tre video in italiano. Perché? Perché devo rivisitare la lingua italiana. Holly, la mia amica e io vogliamo parlare insieme in italiano su tre giorni di tempo. È stato un lungo periodo di tempo, in realtà molti anni da quando ho studiato italiano. Tra me e te è troppo tempo e comprensibilmente voglio cambiarlo. E ciò perché voglio fare questi video. Per ora è tutto. Per favore lasciami un commento sotto. Grazie mille per aver guardato questo video. Ciao, arrivederci.